Ciao a tutti ragazzi sono Orco Verde, in questo video volevo informarvi che Sony ha programmato una manutenzione del PSN in arrivo in questi giorni. Se vi recate sulla pagina dello stato dei server PSN potrete bene notare che ci sarà scritto promemoria manutenzione inizio il 27 giugno 2017 alle ore 7 e terminerà un'ora dopo alle ore 8. Se premete sull'opzione dettagli comparirà questa schermata con scritto piattaforme coinvolte PS4, PS3, PS Vita, Web e altro. Servizi coinvolti, PlayStation Network verrà sottoposto a manutenzione ordinaria e interventi di miglioramento per circa un'ora, martedì 27 giugno dalle ore 7 alle ore 8 in Italia. Chi ha già un account può comunque accedere al proprio profilo PlayStation Network, giocare e usare la maggior parte delle applicazioni anche durante la manutenzione. Non sarà invece possibile accedere a PlayStation Video, PlayStation Store e account management. Ci scusiamo per il disagio, ti consigliamo di attivare la tua PS4 come console principale prima dell'inizio della manutenzione, in modo da poter continuare a giocare alla maggior parte dei giochi e a utilizzare servizi di terzi durante il periodo di inattività, ovvero della manutenzione. Se sarete interessati come attivare la propria PS4 come console principale, dovrete accedere al proprio profilo PlayStation Network, poi dovrete selezionare impostazioni, PlayStation Network barra gestione account, attiva come PS4 principale e selezionare attiva. Facciamo il possibile per assicurare che i servizi PlayStation Network siano sempre disponibili. Tuttavia, di tanto in tanto, dobbiamo mettere PlayStation Network offline per eseguire interventi di manutenzione essenziali e per implementare miglioramenti alle funzioni. Cerchiamo di ridurre al minimo la durata di ogni intervento. E questo è quello che ha specificato Sony riguardo la manutenzione di un'ora, che ci sarà la mattina di martedì 27 giugno, dalle ore 7 alle ore 8, ora italiana. In descrizione lascerò il link della pagina dello stato dei server PSN, se volete darci un'occhiata anche voi. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video. E da Orcover tutto ci vediamo al prossimo video. Bella!